La riforma attesa da anni, avremo finalmente una pubblica amministrazione più efficiente, più moderna? Tre anni di lavoro, ma il filo rosso è sempre lo stesso. È quello di fare in modo che l'amministrazione non sia distante dal cittadino, non sia incerta nelle regole, non sia incerta nei tempi, non sia opaca, non sia complicata. Perché l'amministrazione deve essere vicina a chi ha bisogno, vicina ai cittadini che hanno legittime aspirazioni, altrimenti rischiano di prevalere i rapporti di forza e le rendite di posizione. Questo è il senso di questa complessiva operazione di riforma. Nella riforma c'è anche una stretta sui cosiddetti furbetti del cartellino e su chi li deve controllare. Che cosa cambia in pratica? Cambia che superiamo il lassismo che spesso c'è stato nelle amministrazioni nel sanzionare chi era evidente che avesse sbagliato. Guardi, questo non è il cuore della riforma della pubblica amministrazione, ma spesso ha suscitato l'indignazione dei cittadini il fatto che ci fosse una prova schiacciante, evidente, di una truffa da parte di un dipendente pubblico e che poi quel dipendente non venisse sanzionato. Ecco, oggi sei evidente che hai sbagliato. In 48 ore sei sospeso dal servizio e in tempi brevissimi sei licenziato. Lei si è detta pronta a riaprire il confronto con i sindacati? Dopo l'accordo del 30 novembre con i sindacati e con i decreti di oggi, noi come governo abbiamo tutte le carte in regola per riavviare la stagione contrattuale, ma soprattutto per firmare presto un nuovo contratto per i dipendenti pubblici.